abbiamo preso un attaccante abbiamo preso popovic popovic e del milan e voi mi direte fred ma chi cazzo è sto popovic e io vi risponderò ma io che ne so chi è popovic ma lasciate un like per questo ragazzino acquistato dal mina che appena sbarcato a milano per firmare il contratto con il mina ovviamente ragazzi non è l'attaccante dei nostri sogni non è l'attaccante che speravamo però chissà se un domani potremmo riguardare questo video e pensare a popovic che sarà diventato titolare del milan con caterve e cataste di gol non si sa mai però quando arriva un ragazzo giovane bisogna sempre essere sognatori bisogna avere la speranza in questi giovani e il ho detto il mina non può andare a comprare giocatori già campioni quindi dobbiamo cercare di costruirli e quando c'è un giocatore così interessante il mina ci sta puntando già da un bel po non è un acquisto last minute mettetevi comodi cerchiamo di capire chi è che tipo di giocatore e cosa farà nel milan quindi like per popovic iscrizione al canale se ancora non l'avete fatta è un classe 2006 quindi giovanissimo appena fatto 18 anni giocatore che va in scadenza di contratto il contratto gli scade il 31 dicembre 2023 quindi è praticamente un giocatore libero arriva dal partisan quindi preso a gratis cosa importante ragazzi occupa l'ultimo slot di extra comunitario il mina vi ricordate c'era con lo slot libero che era lì pronto per arrivare i taremi e compagnia bella alla fine quest'ultimo slot lo occupa popovic so già che adesso si faranno facili ironie del tipo è ma che schifo ma che allora ragazzi ovviamente non è che uno se la può prendere con popovic questo è un ragazzo di 18 anni che sta venendo sta facendo una grande avventura quindi diamoli tutti quanti il benvenuto giudichiamolo in campo perché ovvio a guardare gli highlights sembrano sempre tutti forti io mi sono guardato gli highlights ma giusto per capire che tipo di giocatore è non tanto per capire se è buono non è buono perché ripeto non si capisce dagli highlights sembra un giocatore strutturato molto forte fisicamente con un ottimo dribbling un'ottima tecnica sembra un giocatore comunque abbastanza elegante nonostante sia alto uno se lo immagina tutto scoordinato e invece sembra avere un buon tocco di palla sembra avere un buon dribbling li vedi sempre fare doppi passi in questi highlights li vedi fare tanti assist è uno che comunque fa quasi più assist che gol però ripeto non voglio giudicare quello che ho visto negli highlights lo giudicherò con la maglia del milan poi magari mi guarderò qualche partita della primavera giusto proprio per andare a dare un giudizio un po più dettagliato sulla partita di questo calciatore però sono molto curioso certo mi aspettavo qualcosina di più in attacco ora l'attacco del milan è completo beh direi di no visto che sto ragazzo sta andando praticamente in primavera si ogni tanto andrà in prima squadra come tanti giocatori quest'anno sono finiti prima squadra però ovviamente è un'occasione lo prendi a zero l'unica cosa negativa è che di blocca sto slot di extracomunitario ma credo che il milan non avesse intenzione giocatore serbo e ragazzi non è che siano tanti tante indicazioni su questo ragazzo può fare il centro avanti perché può fare anche il centro avanti però mi sembra più un esterno d'attacco un giocatore un po più fantasioso che fare il classico centro avanti però ha anche il fisico per fare il centro avanti quindi non lo so ragazzi sono curiosissimo di vederlo in campo giocatore comunque giovane che arriva gratis non si butta via secondo me questi devono essere anche gli acquisti mia non solo questi sia chiaro è che poi io l'altra volta ho detto prendiamo dei giovani mettiamoli primavera facciamoli fare prima squadra primavera così per provarli ma non è che dobbiamo puntare solo su quelli anche su quelli come fanno le altre squadre che hanno i grandi giocatori e poi mettono inseriscono questi giovani così random e va benissimo io sono contento quando acquistano dei ragazzi giovani poi sto popovic boh non lo so mi sta già simpatico non lo so vediamo però sia chiaro non è che il mercato del milan può essere terracciano gabbia e popovic cioè no no per adesso il mercato è mia deve ancora cominciare gli abbiamo dato il bentornato a gabbia abbiamo dato il benvenuto a terracciano diamo il benvenuto a questo popovic ma il mercato del milan di gennaio deve ancora cominciare che sia chiaro perché non è questo il mercato alla rite non vogliamo fare mercato perché questo non è mercato questi sono dei ragazzi giovani che pure terracciano c'ha vent'anni sono delle promesse vediamo come si inseriscono anche ciao era un giocatore completamente sconosciuto è venuto così dal nulla ed è diventato un titolarissimo del milan quindi mai dire mai quindi io do piena fiducia però non mi parlate di mercato di cose perché il mercato deve ancora cominciare sempre forza milan benvenuto popovic daje bella grazie a tutti